Buon pomeriggio a tutti, io appunto per il Comune di Milano mi occupo di partecipazione cittadinanza attiva open data ed è per questo che sono qui soprattutto per parlare di open data e soprattutto per parlare di trasparenza che è molto legato al tema dei dati aperti del Comune. Di solito la prima cosa da spiegare è ma che cosa vuole dire partecipazione e trasparenza? Tutti pensiamo agli assessorati più classici, i trasporti, l'urbanistica, quando si parla di Comune e quindi a seconda del genere di pubblico che si incontra quando si fanno dei seminari, degli appuntamenti in pubblico bisogna specificare un po' di che cosa si sta parlando. Per farlo credo che possa essere utile fare un salto indietro di una quarantina d'anni. nel 1976 ci sono state delle elezioni politiche in Italia, ha partecipato al voto il 93,3% degli aventi diritto quindi un numero molto grande. Erano anni in cui i partiti come il Partito Comunista all'epoca facevano 1.800.000 testere, persone che si iscrivevano ai movimenti politici e partecipavano alla vita civica, alla vita politica delle nazioni. Erano dei momenti in cui c'erano le prime radio libere e posti come il Parlamento, quante volte l'avete sentito dire, la casa di vetro, il luogo delle istituzioni, la più completa apertura e trasparenza, erano sì trasparenti sulla carta, sulla Costituzione, già da diversi anni, dallo Statuto Albertino, figuriamoci, nel rendiconti parlamentari. Ma, per esempio, nessuno poteva sapere esattamente quello che succedeva lì dentro, perché non c'erano, per esempio, le dirette radiofoniche delle sedute parlamentari. Incomincia proprio nel 1976 l'avventura di Radio Radicale, Conoscere per deliberare, questo motto di Einaudi, iniziavano a trasmettere integralmente, senza mediazioni, senza tagli, senza rielaborazioni giornalistiche, quindi senza che qualcuno si frapponesse tra la produzione del contenuto e la fruizione. Perché? Ma perché c'era un movimento che chiedeva queste cose, c'erano degli attivisti che lo facevano a proprie spese addirittura e che creavano queste precondizioni per fare trasparenza. Erano gli open data, la trasparenza degli anni 70. Oggi abbiamo molta più tecnologia, ma abbiamo molta meno partecipazione. Le ultime elezioni comunali nel 2016 hanno visto la partecipazione al voto, per esempio in una grande città come Roma, di circa il 50% degli aventi diritto. Il partito che è quello che ha ereditato, insomma, la storia del PCI in Italia ha neanche 400.000 iscritti, quindi ridotto ad un quarto, un quinto di quelli che erano solo 40 anni prima. Insomma, l'attenzione per quello che sono le attività della Civitas, del nostro stare insieme collettivo, sono molto meno seguite dai cittadini. E' vero che si parla molto di più di trasparenza, di partecipazione. Sono tanti, devo dire, i colleghi in altre città italiane che hanno delle deleghe simili alle mie. I comuni maggiori hanno tutti istituito degli assessorati che lavorano con i dati, che lavorano con la partecipazione. Un po' perché va di moda, un po' perché forse questo venir meno della volontà civica di partecipare alle decisioni comuni deve avere come risposta delle novità, qualche nuova soluzione per poter mantenere un'attenzione che va scemando. E allora, sempre con un po' di ritardo, arrivano anche i provvedimenti normativi. Nel 1966 negli Stati Uniti d'America veniva approvato il Freedom of Information Act, che garantiva l'accesso a tutte le informazioni della pubblica amministrazione per tutti i cittadini che ne fanno richiesta. In Italia abbiamo aspettato il 2016 per avere una legge simile. Però la buona notizia in questo caso è che oggi qualsiasi documento della pubblica amministrazione può essere richiesto da qualsiasi cittadino, anzi da qualsiasi persona, senza che ci sia da dimostrare il perché uno chiede o vuole ottenere un qualsiasi genere di documento della pubblica amministrazione. Abbiamo fatto quindi passi in avanti. Sono tanti ormai i comuni che fanno della politica di apertura dei dati e delle informazioni delle buone pratiche. Il Comune di Milano ha un portale dove vengono esposti i propri dati, i propri dati statistici, i propri dati geografici. Abbiamo un geoportale come la maggior parte dei comuni. Qual è il problema? Che anche in questo caso, a fronte di un grande avanzamento tecnologico, oggi possiamo seguire le sedute del Consiglio in streaming, online, possiamo dire la nostra sui social, possiamo scaricare e vedere moltissime informazioni delle pubbliche amministrazioni. Ma alla fine dei conti quello che manca è forse la collaborazione civica nel poter fruire questi dati e queste informazioni. E allora, per quanto le pubbliche amministrazioni si diano da fare per aprirsi, quello che ci serve è forse un momento di formazione civica e di ragionamento e di incentivazione dei cittadini ad usare queste opportunità, dei dati aperti, delle informazioni, della partecipazione, per riappropriarsi dello stare insieme, del vivere comune, del poter sentire come proprio quello che è la vita civica di tutti i livelli, dal comune alle istituzioni più alte. E questo è l'unico modo che noi abbiamo oggi a disposizione per fare in modo che quelle che sono il grandissimo, sterminato patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni diventino veramente valore, diventino veramente un bene comune. Le pubbliche amministrazioni hanno a disposizione una quantità inestimabile di dati, dai dati sul traffico ai dati sulla salute, ai dati demografici, ai dati sui prezzi, ai dati veramente sull'anzianità delle case, piuttosto che su dove sono ubicati i servizi. Questi dati sono valori, sono valori economici, sono valori sociali, sono valori anche storici, perché ricostruiscono come è cambiato il nostro territorio, come sono cambiate le nostre professioni, come sono cambiati i temi che ci interessano. E' quindi fondamentale che siano le comunità a sapere e a ragionare di quelli che sono queste possibilità di riappropriarsi dei dati, perché comunque sia, anche se ormai siamo assistiti alla tecnologia, produrre e liberare questi dati è un costo. Bisogna metterli su piattaforme digitali, bisogna metterli in internet, bisogna creare delle tabelle, bisogna fare in modo che siano informati indicizzabili, ricercabili, raggiungibili per tutti, non solo per chi è nativo digitale o conosce bene i computer. E allora questo costo è bene che sia affrontato innanzitutto con delle priorità. E le priorità ci possono essere indicate, possono venire solo da chi da questi dati trae delle informazioni, trae della conoscenza e da questa conoscenza può costruire dei percorsi partecipativi. Oggi non possiamo pensare di fare vera partecipazione senza conoscere veramente quali sono i dati veri che riguardano i fenomeni, si parla dell'immigrazione, dell'invasione dei migranti, quante persone si fermano a ragionare sui numeri veri? Uno guarda i numeri veri e servono a raccontare che per esempio non siamo davanti a nessuna emergenza, i numeri degli arrivi in Italia sono stabili negli ultimi anni, i numeri dei richiedenti asilo sono addirittura in calo rispetto a quelli che sono stati negli anni passati. Questi dati sono fondamentali per poter fare una narrazione della nostro quotidiano, della nostra realtà basata sulla verità, basata sui fatti, basata sulla partecipazione, perché solo a partire da numeri autentici, numeri certificati, numeri veri, che sono solo quelli che possono venire dalle pubbliche amministrazioni, noi possiamo poi fare quell'iniziativa civica, quella partecipazione, che è una partecipazione concreta, una partecipazione vera, che ormai sempre di meno viene spontaneamente dai cittadini, ma sempre di più serve per riuscire a mantenere un piede nella realtà e rifugire il rischio di populismo piuttosto che di parlare di fenomeni senza conoscerli, che è invece un grande costo sociale. Siccome invece vogliamo fare in modo che sia una grande opportunità, lavorare con gli sviluppatori, con chi crea dei servizi sulla base dei dati della pubblica amministrazione, è fondamentale. Io sono arrivato qua anche grazie alla conoscenza con un'iniziativa, che è quella di Ciocco Data, un gruppo di sviluppatori di servizi online che usano i dati dei comuni per creare per esempio mobilità condivisa, come usare le macchine in condivisione per poter spostarsi da un luogo all'altro. Ci sono delle esperienze incredibili sul turismo che usano i dati delle pubbliche amministrazioni, messe tutti insieme, i dati di chi sposta aerei, chi sposta treni, chi fa ricettività, i comuni che in alcuni casi applicano tasse di soggiorno, messi tutti insieme questi dati creano un valore, perché danno una profondità incredibile. Allora oggi la sfida non è più quella di mettere fuori tanti dati, dire ci sono tante informazioni, ma quella di fare una open data, una pubblicazione di dati di qualità. E per farlo bisogna assolutamente fare in modo di lavorare a stretto contatto con chi lavora per creare valore da questi dati, gli sviluppatori, le persone che hanno start-up, le persone che lavorano con i dati. E soprattutto vicino, molto vicino ai cittadini, perché è importante che questi dati siano restituiti con una profondità che non può essere solo quella degli addetti ai lavori, ma deve essere, a seconda dei pubblici, delle persone che si incontrano, anche la profondità in grado di creare da queste informazioni un racconto, un racconto di quella che è la nostra realtà, di come cambia, e di come poter fare da questa mole di dati conoscenza, conoscenza e informazione, che è poi il modo di restituire, e questo è lo sforzo delle pubbliche amministrazioni come Milano, da questo mole di numeri, da queste tabelle un po' fredde, un po' informali, la nostra realtà, il nostro modo di restituire ai cittadini quelle che sono il nostro quotidiano, raccontare perché è importante per tutte le età conoscere chi siamo e dove andiamo e quindi qual è il modo di poter lavorare insieme per ricostituire un po' quella fiducia che evidentemente è andata perduta, se nel giro di 40 anni abbiamo perso, siamo passati dal quasi 90% di cittadini che partecipano alle elezioni a percentuali inferiori alla metà. Solo quindi mettendo a disposizione una grande opera di volontà e di apertura e di riavvicinamento ai cittadini delle amministrazioni possiamo riprendere questo momento, questa fiducia che sembra essersi perduta. Ma non dimentichiamo che queste cose, se sono calate dall'alto, possono funzionare, ma hanno vita breve, sono come ai tempi delle radio libere i cittadini che devono riappropriarsi delle loro informazioni che sono di proprietà del pubblico, dei cittadini che le generano con la loro attività e vita quotidiana perché è solo in questa maniera che veramente si può fare in modo che queste informazioni abbiano un'anima, abbiano delle storie dietro, abbiano dei valori, siano dei beni comuni i quali sono nati e devono continuare ad essere. grazie a tutti. 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 Grazie a tutti